Bentrovati, bentrovati ad un nuovo videotutorial firmato fabiambrosi.it Continuiamo a parlare di Adobe Premiere Pro, continuiamo a parlare della grafica in Premiere. Nella scorsa lezione abbiamo visto come inserire un testo, come inserire delle semplici forme geometriche e quest'oggi parleremo della grafica essenziale, un nuovo tool introdotto nelle ultime release di Premiere per fare cose un pochettino più avanzate, in particolar modo per sfruttare la potenza di After Effects direttamente in Adobe Premiere Pro. Vi ricordo www.fabiambrosi.it, sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti di questo corso introduttivo di Adobe Premiere Pro. C'è anche il corso da qualche settimana dedicato ad After Effects, seguitelo, è ancora all'inizio ma promette bene, quindi fate una capatina, iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi tutorial e se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi. Bene, parliamo della grafica essenziale. Cos'è? Innanzitutto come si apre la grafica essenziale? Bene, se volete potete aprire il pannello della grafica essenziale andando su finestra e scegliendo la voce, chiaramente, grafica essenziale. Ecco qua, e viene aperto il pannello della grafica essenziale. Oppure potete utilizzare il preset, lo spazio di lavoro, chiamato grafica. Cliccando sullo spazio di lavoro grafica vengono aperti i pannelli che possono servirvi per lavorare con la grafica, tra cui il pannello della grafica essenziale. Bene, cos'è la grafica essenziale? Bene, intanto è un tool che racchiude diverse funzioni. Tra le varie funzioni c'è la possibilità di modificare in un unico luogo gli elementi grafici che, per esempio, abbiamo creato nelle scorse lezioni. Se io seleziono l'elemento grafico contenente il testo e le varie forme geometriche, vado su Modifica. Vedete che tutte le opzioni, o quasi tutte le opzioni che stavo vedendo nel pannello controllo effetti, sono disponibili anche nel pannello della grafica essenziale. Basta selezionare il livello che voglio modificare e modificare e fare tutte le modifiche che voglio. Per esempio, voglio cambiare il testo e farlo rosso, posso tranquillamente utilizzare il pannello della grafica essenziale. Forse è un po' meglio organizzato rispetto al pannello del controllo effetti. Sono simili, però a voi la scelta. Ma non finisce qui. Dicevo, il pannello della grafica essenziale contiene una grande libreria di elementi già creati e pronti e disponibili ad essere utilizzati in pochi clic. Ipotizziamo che vogliamo, che ne so, creare un'animazione per il nostro telegiornale. Ma noi non siamo grafici. Però ci dicono, ah, sbrigatevi, dobbiamo fare un titolo per il nostro telegiornale. Bene, in Premiere c'è questo template che io posso trascinare in timeline. Vedete che tra un secondo Premiere calcolo, eccolo qui. Ovviamente lo devo ridimensionare alla dimensione del fotogramma in cui sto lavorando. Vedete che ho già un'animazione molto semplice, realizzata in After Effects e già pronta per essere utilizzata, che io posso customizzare. Ok? Tra poco vedremo come. Per esempio, oppure, oppure, oppure. Un altro esempio. Voglio un sottopancia al volo, ma non ho tempo di starlo a creare con i rettangoli, bla bla bla. Ecco, abbiamo dei sottopancia già creati, che io posso andarmi a customizzare come voglio. Ovviamente sono, vedete, sono già animati, quindi sono anche carini da vedere. Realizzati con After Effects e pronti per essere modificati. Dicevo, come si modificano? Molto semplice e anche molto intuitivo, no? Una volta importati in timeline, basta andare in modifica, selezioniamo l'elemento grafico, posso customizzare quello che voglio. Vedete, qui ci sono vari elementi grafici che posso customizzare, quindi posso scegliere un nuovo font, posso ovviamente scrivere, perché altrimenti è forse la cosa più importante. Posso cambiare quello che voglio e lo posso fare con tutti gli oggetti della libreria che stavamo vedendo prima. Per esempio, il telegiornale di cui stavamo parlando poc'anzi. Ah, questo è carino, cos'è? Vediamo un po'? Non li conosco tutti, ovviamente. Ah, questo è un... l'animazione di un logo, ok? Se dovete fare delle cose molto custom magari non è utile, però, per esempio, torniamo al discorso di prima, al telegiornale che deve aprire con una semplice animazione. Vado a modificare il titolo News24, per esempio, posso cambiare il... qui lo chiamano occhiello, però, per esempio, non so... All the News24, è un esempio. Posso chiaramente customizzare tutto, posso customizzare il colore di sfondo, per esempio. Vedete, posso customizzare il colore principale, per esempio, invece che il rosso, posso farlo di questo colore qui, azzurrino. Posso cambiare la grandezza, vedete, dell'occhiello in rapporto con il testo principale. Basta giocare e vedere quello che fanno questi elementi, anche perché poi ogni elemento grafico qui ha delle opzioni diverse. Questi elementi grafici sono stati tutti creati con After Effects e nel corso di After Effects impareremo come crearci i nostri template da poter utilizzare, da poter passare poi al montatore video, che potrà poi customizzarseli come ritiene ovviamente opportuno. Per il momento mi fermo qui, c'è il corso di After Effects, se volete approfondire questi argomenti, www.fabbiambrosi.it per seguire anche gli altri video tutorial, ci sono gli articoli di queste lezioni. Iscrivetevi a questo canale YouTube, cercatemi su Facebook, sono Fabio Ambrosi. Per il momento, grazie ancora a tutti, al prossimo video tutorial. Ciao! Ciao!